E allora signori buongiorno, siamo qua in diretta dalla Puglia Hotel Sella Marina, oggi in compagnia del nostro Pasquale. Pasquale, quali sono le tre cose fondamentali che hanno eso incredibile questa tua vacanza? Il mare, gli animatori e i camerieri del ristorante. Quindi si è trovato bene? Benissimo, gli animatori stupendi. Stupendi, ritornerai l'anno prossimo? Certo, meravigliosi, e una sola porterò sempre nel cuore, però non me ne vogliono, gli altri, la dolce Sara più presente. Baci virtuali quest'anno è così, salutiamo e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!